Scattano in tre nel campionato di Serie C Pugliese di palacanestro. Nella seconda giornata voce grossa in trasferta per Canusium, vittorie Casalinghe per la scuola di basket Lecce e Barletta Basket. Un successo decisamente ben augurante per il quintetto barlettano nella domenica del ritorno del basket al pala di sfida Mario Borgia, domata sul 73-64 Nuova Matteotti Corato che pure aveva cominciato bene con un ispirato Latella, autore di 20 punti, meglio di lui solo Gambarota, 23 per i padroni di casa. Straripante Canusium sul campo di basket Francavilla, 94-69 il punteggio finale con 22 punti di migliore e 18 di Floreani, tanti quanti quelli di Danino per i locali. Prevale in scioltezza anche la scuola di basket Lecce, opposta a Fortitudo a Pricena che aveva invece riposato la prima giornata. Dopo qualche difficoltà in avvio i Salentini si aggiudicano la sfida per 80-64 con 26 punti di Fumaneri, cui fanno parzialmente da contraltare Mirando con 18 punti e Ndiaye con 16. Prime gioie per pallacanestro Molfetta e basket Fasano, Corsara quest'ultima a Monteroni per 65-63. La squadra di coach Serrano sorpassa i Salentini nell'ultimo periodo, coronando l'inseguimento di gran parte dell'incontro. 17 punti per Paparella, 16 per Ferruglio, anche se è il miglior canoniere fra i padroni di casa De Angelis con 18. Esulta pure Molfetta, vittorioso per 72-58 su Valentino Castellaneta. Subito decisivo, l'italo-argentino Duval, autore di 17 punti, seguito a Ruota nello score da Begic, ex di turno che ne realizza 16 per gli Ionici. Non ha giocato Virtus Matera, a cui toccava il turno di riposo, comeppure non sono scese in campo Libertas, Altamura e Mesagne che recupereranno la gara mercoledì 1 novembre. Nel prossimo turno sarà Lecce a fermarsi, mentre Molfetta e Vicenà a Corato e Canussion ospiterà Altamura a Trintapoli.